Un grande fine settimana di sport allo stadio Tenti di Arezzo con i campionati regionali di società di atletica leggera. Gari di corsa, lanci e salti che hanno visto 400 ragazzi e ragazze nate nel bienio 2001-2002 contendersi le varie medaglie in palio, vedendo sfidarsi anche alcune delle grandi promesse dell'atletica italiana. Grande risultato, enorme partecipazione, grandi risultati tecnici, anche se questi due giorni è stato un po' disturbato dal vento, grande partecipazione di pubblico, tanti agli evi, che direi un gran risultato. E tutto ora al prossimo appuntamento, il 26 maggio con gli assoluti e speriamo lo spettacolo continui e venga tanto pubblico come in questa manifestazione. Il vincitore dei 400 ostacoli allievi l'è cadito? Matteo, allora com'è stata la gara? Beh, era il mio esordio stagionale nella gara e il mio esordio totale, perché non avevo mai corso questa gara e quindi penso sia andata abbastanza bene. Perché prima che facevi? Io faccio 400 piani, però con gli ostacoli ancora non mi ero mai, non avevamo provato. E il cinghiale? Il cinghiale è la manastra mascotte della nostra società, da Tatea Colseto Banca Tema. 400 ostacoli, allora chi, questa è la vincitrice, ti chiami? Marta Lamorcello. E dove sei? Adizia. Allora com'è andata la gara? No, è andata bene, sì. Diciamo che qui ormai è tutto l'inverno che ci alleniamo col vento e quindi anche oggi... Eri abbattata già, conoscevi la direzione. Sì, però ovviamente anche oggi c'è stato il vento contro, quindi ci accontentiamo. Poi abbiamo l'altra atleta di casa, te Chiara Cosi. Chiara Cosi. Magari non eri in forno. Abbiamo la vincitrice della prima batteria dei 200, Eleonora Ricci. Allora com'è andata? Bene, bene. C'era un po' di vento, però mi è sembrata bene. Il tempo ti ha soddisfatto? Insomma, dai, ci possiamo stare. Te di dove sei? Di Cascina. Cascina, con la società? Atletica Cascina. Atletica Cascina. 400 ostacoli allievi, te sei? Greta Monreale. Seconda? Sì. Te? Lisodotti. Vinta Muscatelli. Allora come vi è sembrata la gara? Come è andata? Faticosa. Faticosa? Però non siete sudate per niente. No, non è un po' migliore, però va bene. Era un po' ventoso, ma sì, soddisfatte.